Lo sai che la 3 compie 10 anni? Sì, e con questa festeggiamo con tutti i clienti della 3. Prindiamo, offre la 3! Aschiamo fuori! E sono 10 anni che la 3 li fa pedalare a tutti. Pedala, pedala! 10 anni di 3 e un mano mai pelato. La 3, 10 anni e fa sempre scuola. Oggi 3 compie 10 anni. 10 anni dedicati a darvi più servizi, più velocità, più qualità. Sempre alle tariffe più convenienti per voi. Grazie ai più di 9 milioni e mezzo di clienti che hanno scelto 3. 3, più valore per te. 3, più valore per te.